Il calendario è quello che è, un'altra trasferta terribile contro una Roma che tra l'altro ha il dente avvelenato perché ha perso a Bergamo. Insomma vi attendete una Roma all'arma bianca, all'arrembaggio? Sicuramente sarà una partita difficile perché loro la vorranno vincere dopo questo piccolo passo falso. Dopo questa partita comunque il calendario non è così infernale, quindi possiamo avere delle scusanti solo in quest'ultima partita. Perché incontriamo la seconda squadra del campionato, perché è una squadra molto forte, però dopo di questa dovremmo cercare di fare più punti possibili prima del giro di Boa. Però concentriamoci su questa perché sono sempre tre punti in palio e quindi non si sa mai, no? No, assolutamente, anche perché la Roma è sempre stata una squadra che magari concede a dei cali di tensioni, quindi possiamo metterlo in difficoltà. Dobbiamo superarci ovviamente, dobbiamo fare una partita di grande spessore e fare il massimo. Quindi magari cercando di rubare sempre qualche punto in qualsiasi campo. Senti, lì davanti ci sono due giocatori che insieme hanno già messo 18 gol, Zeko e Salah. Insomma, saranno loro i terminali offensivi sicuramente? È loro da temere o anche tutta la squadra e tutto il gioco che fa fra le spallette la squadra? Certo, certo. Poi in casa loro, secondo le statistiche, credo abbiano perso molto poco. Quindi, beh, a parte Zeko e Salah, comunque credo che tutti siano da temere perché è una squadra di grandi campioni, quindi dovremo fare più del massimo. Secondo te in questa settimana, che ancora vi separa dalla partita, che ci sarà domenica, lo ripetiamo, alle 20.45, proverete qualcosa di nuovo? Non ne ho idea, però magari ripartire dal modulo contro la Juve. Vediamo.